In apertura di questa nota vorrei lanciare il senso della mia solidarietà al direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio, che è stato oggetto in televisione di un attacco furibundo da parte di un noto giornalista di Repubblica, il quale ha ovviamente attacciato le sue opinioni sostanzialmente non violento e pacifista e molto vicine alla linea di Papa Francesco. Il movimento non violento, pacifista, gran parte del mondo cattolico non si è schierato con Putin, si è semplicemente schierato con le ragioni della pace contro ogni guerra, tenendo conto appunto delle parole del Papa che da tempo sottolinea come in questo ventunesimo secolo è scoppiata una sorta di terza guerra mondiale a pezzetti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è soltanto l'Ucraina invasa dalle truppe russe, ci sono altre guerre ancora sempre più devastanti in Yemen, in Africa, un po' dovunque si sono accese operazioni belliche. Le operazioni belliche non nascono per caso, anche in questo senso le parole del Papa sono indicative. Chi ha voluto chi prepara le guerre, chi le ha volute sono coloro che di fatto le progettano e poi le vendono. Basti pensare che qualche anno fa il conto economico che Trump aveva disposto nei confronti dell'Arabia Saudita, del riarmo dell'Arabia Saudita impegnata nella guerra con Yemen, era di circa 300 miliardi di dollari in armi. In secondo luogo c'è il grande rischio che questa terza guerra mondiale a pezzetti possa trasformarsi in un vero e proprio conflitto nucleare e questo è il rischio vero. Qui andiamo incontro se non si mette fine ad ogni conflitto. La settimana che è trascorsa ha avuto un'impennata di dibattito pubblico e in Italia soprattutto dal punto di vista del Parlamento che ha votato il cosiddetto decreto ucraina che conteneva anche forme di aiuti militari. Da questo punto di vista c'è stata una sorta di distingue da parte del Presidente di riconfermato dei 5 Stelle Giuseppe Conte, il quale ha voluto prendere le distanze dal governo Draghi sostenendo che l'aumento delle spese militari previsto fino al 2% del PIL potesse avvenire addirittura nei prossimi 6-8 anni, cioè tra il 2028 e il 2030, ma se così fosse del tutto evidente che comunque, come dire, l'escalation di spese militari in Italia, già iniziata tra il 2014 e il 2020 e poi proseguita nel 2021 e oggi nel 2022, comunque non avrebbe mai termine. Questo apre un terzo fronte di dibattito pubblico qui in Italia, nei media soprattutto, ha a che fare con gli effetti devastanti delle sanzioni alla Russia che noi stiamo pagando quotidianamente per effetto della dipendenza energetica dalla Russia. Il 42% circa del gas che noi utilizziamo quotidianamente proviene dalla Russia, alla quale Russia, l'Europa paga ogni giorno un conto di circa 800 milioni di euro. 800 milioni di euro al giorno. Ora è del tutto evidente che su questo si gioca gran parte della strategia di Putin per condizionare anche gli europei, visto che dal primo aprile egli ha voluto il pagamento esclusivamente in rubri. L'effetto più devastante di questa situazione è l'aumento dell'inflazione e l'abbassamento della crescita. L'inflazione viaggia intorno al 6,7-6,8% in Italia, al 9,8% addirittura in Francia, in Spagna, scusate, fino al 7,3% in Germania, con crescite che ormai presentano il 2-2,5%. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Qualora non avessimo messo qualche toppa in Africa ci sarà sicuramente un problema. Ci sarà un problema in parti importanti dell'Europa di approvvigionamento, approvvigionamento di grano, approvvigionamento di viveri, approvvigionamento di acqua. Quindi il tema dell'invasione russa sull'Ucraina è un tema globale che ha a che fare con una globalizzazione diversa e sulla quale bisognerà puntare ancora i riflettori e la nostra riflessione. Al termine di questa nota consentitemi di dirvi che questa è la settimana del voto per le RSU nell'amministrazione pubblica, in particolare per quel che riguarda la FLC, nelle scuole, nelle università e nei centri di ricerca. È del tutto evidente che questa volta si tratta di non solo ringraziare i nostri candidati che ci hanno messo la faccia, e sono veramente tanti, in decine di migliaia, ma questa volta occorre davvero vincere, perché la CGL in questo momento è difficile, è l'unica grande organizzazione di massa che fornisce risposte, e fornisce risposte razionali, ragionevoli, al di fuori di ogni sospetto.